in questo video tutorial parleremo di testo mi cerco il mio file desktop testo ecco qua come arriviamo a digitare il nostro testo possiamo arrivarci o dall'icona aggiungi oppure da questa postazione ci poggiamo su designer e cliccando sul nostro file dobbiamo cercare il livello nel reparto testo qui da questa pagina possiamo elaborare animare e formatare il testo il livello non ci interessa più ci interessa il reparto testo lo scriveremo magari su un solo livello quando digitate un testo tenete conto della dello stile del vostro video e cercate di rimanere in tema e poi cercate sempre la semplicità l'eleganza fate attenzione all'accostamento dei colori insomma il video prende valore quando un testo è digitato bene per prima cosa che sono abituato a scegliermi i colori e quindi e di solito li prelevo dal file stesso in questo modo sono sicura di non sbagliare faccio vedere come faccio prelevo il pennino e prendo due colori del file un colore chiaro ecco qua e il contorno che sarebbe il bordo esterno questo qui lo seleziono e prendo il pennino e di solito io prendo poi in questo caso un colore scuro ricordatevi sempre che quando fate la scelta del colore il pennino deve cliccare ve ne accorgete solamente è andato a buon fine quando trovate questo questo pixel segnalato e quindi abbiamo l'interno di un colore chiaro e il contorno di un colore scuro in questo momento possiamo digitare cento per cento a questo punto me lo ingrandisco e lo sposto con tutto questa baradama è possibile farla anche con i settaggi così non dice niente ma se io ci vado a mettere un bel un'ombra vedete come cambia il tutto o incominciamo con dire che il il fond avevo messo questo solo per mostrarvi che eventualmente è possibile e imbottire e la la tessitura con con un'immagine vi faccio vi mostro come fare una qualsiasi via ecco questa è un'immagine imbottita a me non piace la tolgo e rimane per la semplicità del testo pensiamo a cosa a vediamo un poco in questa postazione se vogliamo aggiustare un po l'opacità riferito sempre al testo questo vero ecco vedete come cambia la la posizione lo spazio tra i vari le varie lettere però qui voglio mettere zero perché poi questo questo fatto qua andiamo a fare dopo diciamo che questa sezione sembrerebbe completa è sempre perché è la fretta se io quando faccio i video mi rilasso faccio tutto con calma comunque eccoci arrivata la postazione effetti cosa ci dice questo testo qui avremmo potuto selezionare un animazione preimpostata impostata in arrivo avremmo potuto scegliere questa quest'altra e applicarla il tempo d'attesa di lettura interno di solito si posizione si posizione su nessuno e l'uscita l'uscita che potrebbe essere questa per esempio vediamo l'animazione e questo sarebbe quello imbostato io voglio farvi vedere la possibilità di personalizzare tutto quindi cosa facciamo qui settiamo niente da nessuna parte in entrata in sosta e in uscita mettiamo zero e andiamo a vedere cosa possiamo come possiamo fare per animare noi il nostro testo qui abbiamo un binario con la linea temporale sopra e i fotogrammi chiave sotto il testo è composto da due keyframe quindi due fotogrammi chiave uno e due e tutto il resto è l'uscita abbiamo detto che così come sta posizionato tutto su zero è fermo è inanimato statico per animarlo vediamo un poco come fare ci dobbiamo aggiungere altri fotogrammi chiave e possiamo aggiungerli o da questa postazione aggiungendoli oppure direttamente da qua facendo insert mettiamone più di uno quando ne dobbiamo mettere molto ci conviene usare la finestra multipla e digitiamo il numero di file che ci occorrono al momento ne abbiamo cinque mettiamone giusto uno o un altro solamente questo punto ne abbiamo sei distanziamoli uno il primo l'ultimo con questi qua dicendo con questi altri fotogrammi chiave faremo la nostra animazione li ho distanziati alla meglio perché tutto questo questa lavorazione richiede richiede pazienza e precisione andiamo ad analizzare andiamo ad animare il nostro testo all'entrata possiamo stabilire che verrebbe da fuori quindi da questa postazione il numero 2 possiamo portarla al centro per farlo per non farlo muovere tanto possiamo usare le freccette direzionali che stanno sul nostro desktop che muovo al momento al 3 ci diamo una girata qui giriamo così al 4 ci diamo ancora di più 5 cosa facciamo al 5 facciamo un po dall'altra parte e al 6 non mettiamo niente vediamo un po cosa è successo e questa è l'animazione che abbiamo creato possiamo anche aggiustare un po l'opacità nelle varie nelle varie nei vari passaggi li spostiamo in una maniera diversa così abbiamo anche un'opacità che va viene ritorna a questo punto abbiamo completato e possiamo confermare andiamolo a vedere ritorniamo sul livello perché mi sono dimenticato di dirvi una cosa qui è possibile spostare i secondi della della transizione e poi ancora volevo dirvi che vabbè diciamo che va bene così dai togliamolo momentaneamente mettiamo anzi aggiungiamo un altro voglio farvi vedere un'altra cosa questo qui lo togliamo e questo qui vedete la scelta del testo vedete quando ho scritto questo testo come ho cercato di amalgamare tutti i colore stile di testo vediamone un altro se lo trovo che non so se l'ho messo ecco questo qui anche quest'altro il testo vedete come è girato secondo come è girata la busta queste sono freccette direzionali quando si spostano si sposta anche il testo e quello è importante è che abbiamo tolto il livello quindi lo dobbiamo rimettere ritorniamo qui e mettiamoci il livello sotto perché altrimenti tutto il lavoro che abbiamo fatto viene vanificato è ritornato tutto nella posizione iniziale non so se vi può bastare e sappiate che non so se vi è stata un altro bravo quindi abbiamo dettaglio iniziale iniziale Grazie a tutti.